Cereal o Cereal? Qual è la differenza? Ciao, sono Monica di ImparaLingleseComonica.com e nella breve lezione di oggi andrò a svelarti la differenza tra queste due parole. Cereal significa cereale, in inglese potremmo quindi definirlo come type of breakfast food made from grains, quindi una tipologia di cibo da colazione fatto da grano. Una frase che vede questa parola protagonista potrebbe essere Che tipo di cereali ti piacciono per colazione? Cereal invece significa serie ma anche seriale, è quindi un sinonimo di recurrent, repeated. Una frase che vede questa parola protagonista potrebbe essere Il killer seriale è stato finalmente arrestato la scorsa settimana. Bene, per oggi è tutto, io ti aspetto alla prossima lezione con una nuova coppia di Confusing Words.